E torniamo a occuparci della strada provinciale 10 perché oltre al problema dell'incuria in questo periodo si aggiunge anche quello della folta vegetazione che in alcuni tratti invade la careggiata creando non pochi problemi per i ciclisti e gli automobilisti. Ma vediamo. A distanza di due mesi torniamo a parlare della strada provinciale 10. Lungo la via che collega con Cacasale a Venafro ancora in alcuni tratti sporcizia ed incuria. Incredibile come taluni sul cui senso civico o forse più semplicemente sulla cui educazione lecito avanzare più di un dubbio continuino ad utilizzare quel tratto di strada immerso nel verde praticamente come una discarica. Ma a questo si aggiunge una criticità ulteriore e maggiore. In certi punti, fortunatamente non molti, la vegetazione è così fitta da invadere parzialmente la sede stradale. Un potenziale pericolo per gli automobilisti ma anche per i tanti ciclisti e gli sparuti pedoni che lì hanno una visibilità non completa della carreggiata. Di qui, qualche tempo fa, il bot è risposta via Facebook tra il sindaco di Conca Casale, Luciano Bucci, e il presidente della provincia di Sernia, Lorenzo Coia. Il primo a richiedere lo sfalcio della vegetazione e la manutenzione della strada di competenza dell'ente di via Berta, Coia, a ribadire l'ampiamente nota esiguità delle risorse disponibili che consente l'intervento solo nelle arterie stradali più importanti in termini di volumi di traffico. Dunque, la situazione è allo stallo. La domanda è sicuramente ingenua, ma possibile che tra provincia, comuni di Conca Casale, Venafro, enti consortili e comunità montane assortite non si riesca a porre rimedio a questa tutto sommato piccola, ma come detto, potenzialmente pericolosa criticità?